Io mi ritengo un batterista lento, pigro e soprattutto da turismo, non sono un batterista da competizione, io voglio arrivare alle cose piano, tranquillamente, guardandomi intorno a capire del perché faccio quella cosa, del resto non mi interessa, io non suono per i batteristi, io amo vedere i batteristi che fanno qualsiasi cosa, ma non suono per i batteristi, io suono per le persone che ascoltano la musica, non per le persone che ascoltano la batteria, io sono uno che non suona la batteria, io cerco di inserire la mia batteria nella musica, questa qui è una cosa che è da sempre, l'ho pensata e la penso anche adesso, non mi interessa dimostrare e non mi interessa sicuramente cosa pensano di me, di questa cosa, dico solamente che le cose che faccio, ho fatto nei dischi, non le ho mai fatte pensando domani in studio, oggi ho studiato questa cosa, domani in studio la metto in pratica, no, è il brano che mi hanno fatto in studio, che mi ha suggerito cosa dovevo studiare nei dieci minuti di tempo che avevo per poterlo mettere nel brano che avrei suonato, quindi questo qui è stato il mio percorso, io so pochissime cose, non voglio dimostrare, non me neanche voglia, ho 67 anni e soprattutto mi piace ancora tanto suonare e non ho mai avuto e non ho ancora la batteria per studiare in casa, quindi se uno mi vede suonare dice Oscar perché non fa con la cassa così, perché non fa questa cosa, perché io in casa sto studiando ancora con le sedie, con il pad, quando però incontro questa signora qua e la vedo, è come se incontrassi il primo amore della mia vita che non vedo da dieci anni, la vedo e non vedo l'idea a carezzare di stare con lei, è come se fosse sempre la prima volta ed è una cosa stupenda.